eccolo la l'uomo egizio arrivato dalle piramide con lo zainetto alle 14 e 17 egli si reca al lavoro e teniamo d'occhio una situazione anche due situazioni poi ve ne parleremo buongiorno buona mattinata da Pierluigi Senatore dobbiamo riguardare il discorso delle live e speriamo che sia tutto a posto questa è una roba diversa vedete laggiù e facciamo vedere da lontano noi lo sapete c'eravamo proposti per i vetri così non si riconosce gli occhiali da sole molto bene ecco una roba che diamo un'occhiata un paio di situazioni a vedere se è tutto a posto che lo dà e lo speriamo di sì qua è tutto a posto io vedete c'è quattro c'è il solto è troppo